Il progetto Mediterraneo tende a dire che abbiamo un'occasione di presentare pubblicamente quelle che sono le nostre idee, di dare un'alternativa politica ai meridionali che per le combinazioni della vita è un'occasione meno difficile di altre, e cioè le elezioni europee. Perché è meno difficile? Perché le elezioni europee sono tradizionalmente in Italia un momento di dibattito, di discussione molto aperto. Non c'è il problema di eleggere un capo del governo, un governatore di una regione, un sindaco, non c'è un problema di alleanze di destra, sinistra, ciascuno si presenta col proprio volto e col proprio programma, non ci sono liste bloccate, non c'è voto di scambio, tutti i fattori che hanno reso le elezioni europee in Italia molto libere con risultati che in alcuni anni sono stati clamorosi. Perché questo appello? A chi si rivolge intanto questo appello? Si rivolge alle persone, poi lo leggeremo insieme dopo, si rivolge alle persone che hanno fatto molto per il mezzogiorno in questi anni in un contesto difficile, ma l'hanno fatto individualmente, ad un ammaiente, ciascuno nel suo campo, chi magari perché è un musicista, un artista, una persona di cultura, un imprenditore, una persona, un professionista, un insegnante, un sindaco, persone che hanno fatto delle cose singole, positive, ma sganciate le une dalle altre, ciascuno mosso dal proprio amore per questo territorio, dal proprio senso di giustizia o di rabbia verso l'ingiustizia. Ecco è chiaro che se si presenta una lista meridionalista, questa lista si rivolge sia al popolo tutto che ovviamente dovrebbe votarla, ma anche alle persone che ne vanno poi ad arricchire la lista stessa. Abbiamo fatto appello alla necessità di mettere insieme tutte le forze in questa ardua battaglia per il riscatto delle nostre terre. Peccato per chi oggi non c'è, per chi non è voluto esserci o per chi pensa che il tempo è ancora troppo prematuro per poter iniziare una battaglia di riscatto. Per troppe volte il meridionalismo ha dato dimostrazione di essere frammentato, di privilegiare la prevaricazione dell'individualismo sulla voglia di aggregarsi per un'azione comune, per un sentire comune e per una battaglia unica, escludendo non solo le menti migliori, ma prioristicamente gli scettici e demotivando ancora di più fino a condurre a quell'irreparabile rassegnazione a cui sono costrette le nostre terre. Io penso che il tempo non ci sia più o comunque quello che c'è è troppo breve per continuare a sprecarlo e aspettare il corso naturale degli eventi. Esiste un'urgente richiesta di cambiamento, un'emergenza politica alla quale dobbiamo rispondere e che ci impone di non essere sordi, miopi e addirittura incapaci o inadeguati dinanzi a questa richiesta di cambiamento e a questa enorme manifestazione di speranza che sta arrivando dal Sud. Basta far scegliere gli altri per noi, abbiamo il dovere di cominciare a scegliere per noi, di realzarci e abbiamo una data, Marco prima l'ha menzionata, abbiamo l'elezione europea del 2014, allora io vi dico scegliamoci, valorizziamoci, confrontiamoci insieme, facciamo insieme questo percorso di crescita e di rinascita, ma facciamolo ic et nunc, cioè ora, adesso, subito, immediatamente. Ci servirà forza, spregiudicatezza, tanto coraggio perché il progetto è ambizioso, ma impegniamoci con maturità e soprattutto insegniamo da questo momento particolare, da questa giornata, che per non essere mai più soli dobbiamo essere solidali. Dalla nostra abbiamo la capacità di essere schietti, orgogliosi, mediterranei, ma abbiamo anche tanta rassegnazione e tanta stanchezza che ci portiamo dietro, perché le cose vanno sempre un po' peggio per il Sud, allora facciamo in modo che le cose andranno sempre e ancora meglio per questo Sud. Allora io vi ringrazio e speriamo oggi di riuscire a realizzare questo progetto con la forza, con il coraggio e anche con l'emozione che vedo negli occhi di chi mi sta ascoltando adesso e che è la mia testa emozione che guarda voi. Grazie. Molto fiero e pulito del nostro popolo. Persone che con la loro attività, in campo artistico, culturale, imprenditoriale, professionale, hanno tenuto alta la bandiera della legalità e della verità. Hanno portato quella cifra di passione e innovazione che è propria da sempre del nostro popolo e non hanno abbassato gli occhi di fronte all'ingiustizia. loro diciamo grazie, ma chiediamo di fare di più. Al bramma delle terre abbelenate, al dilagare della disoccupazione e dell'emigrazione, all'arroganza della criminalità organizzata, al taglio dei diritti civili minimi nei trasporti, nella sanità, nell'espluzione, nella giustizia, all'insipienza di una classe politica afona e serva, si risponde con una sola parola. Basta. Assistere al degrado e non reagire significa diventare complici. Per la prima volta in 153 anni possiamo presentarci insieme con un progetto di riscatto, di sviluppo, di vita. C'è bisogno dell'energia, della fantasia e dell'impegno di ciascuno in prima persona. Sventoliamo le nostre bandiere, saremo schietti, allegri, orgogliosi, mediterranei. La verità ci renderà liberi. Perché una persona dovrebbe votare le europee per un movimento meridionalista? Perché è arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento di riscattarci, di riprenderci ciò che ci spetta, la dignità che ci hanno tolto, di dire basta a questo sistema di mala politica, di collusione, di criminalità che hanno per anni stuprato e deturpato il Sud. Non è mai esistito un partito che difendesse il Sud da quando esiste l'Italia Unita e noi dobbiamo rappresentare la voce di un popolo che non ha mai avuto rappresentanza. Adesso si tratta di un obiettivo ambizioso ma ogni grande progetto può essere spacchettato in piccola iniziativa alla nostra portata che se ben coordinate daranno a mio parere una bella soddisfazione meridionale. Finalmente poter presentarci con la nostra faccia, con il nostro coraggio e poter dire ci siamo anche noi, non stiamo sempre lì a subire decisioni prese altrui. Riaffrontare il contesto elettorale come una parte della battaglia per la liberazione del Sud. La nostra protesta non nasce e non parte nel seggio elettorale ma è solo un aspetto di quello che dobbiamo andare a fare. E da questa giornata come escono i movimenti meridionalisti? Più consapevoli, più forti e con più entusiasmo. La partecipazione c'è, la voglia di cambiamento pure, si sta creando un progetto bellissimo, un progetto fatto di persone oneste, di persone che ci credono, che sono venute qui convinte che qualcosa si possa fare, che si possa smuovere questa condizione stantia che vive il Sud e partiamo oggi da qui affinché le cose cambino. Noi siamo l'Europa, io credo che l'Europa non possa accettare che ci siano dei cittadini europei che muoiono per dei veleni sversati nel territorio o per veleni nell'aria come accade a Taranto e in tanti altri posti. Allora da europei noi sentiamo che è un problema di tutti e lo dovrebbero capire anche gli altri. Per questo è importante la rappresentanza poi effettiva a Bruxelles? Ma io credo che la democrazia sia comunque una grande invenzione, sicuramente difettosa ma una grande invenzione. Pensare che al momento della conta uno possa soltanto dire se è socialdemocratico, socialliberale o qualcos'altro e non dire io sono un meridionale che test alta vuole fare qualcosa per il suo territorio e così è sbagliato. Noi diamo l'opportunità ai meridionali di presentarsi col proprio volto.